Resta ancora chiuso ad Atri il Palasport di Piazzale Alessandrini, dopo che alcune settimane fa una lastra del soffitto, forse in Eternit, si è staccata finendo sul campo di gioco. Per fortuna in quel momento non si stavano tenendo allenamenti o partite, ma l'episodio ha costretto il presidente della Polisportiva, che gestisce l'impianto, alla Ginnasium Atria Junior, a segnalare la cosa per iscritto al Comune, che poi ha emesso un provvedimento di chiusura del Palasport per motivi di sicurezza. Nella lettera il presidente della squadra segnala la complessiva situazione di degrado in cui versa il palazzetto, dove mancano sia due finestroni, divelti tempo fa dal vento forte, che le finestre negli spogliatoi, e poi nell'impianto sei fari su dodici sono rotti, l'impianto di riscaldamento non funziona, il parchè del campo è in più punti bucato e avvallato, le docce negli spogliatoi sono fatiscenti, infine quando piove il Palasport si allaga. Insomma, in poche parole, una situazione indecorosa e di pericolo, di cui la società, che da sei anni gestisce l'impianto, ha più il Palo Alessandrini, inaugurato nel 1985, non è mai stato a norma e non è accatastato, ammette l'assessore comunale agli impianti sportivi Umberto Italiani. Negli anni, le varie amministrazioni comunali, incluse la nostra, hanno firmato ordinanze in deroga per consentire l'utilizzo dell'impianto, che però ha problemi ed è molto usurato. Verificheremo poi affermato, con i tecnici del comune, se ci sono le condizioni per metterlo a norma, con una spesa non eccessiva, ma il futuro dell'impianto, come dire, è segnato. Circa la lastra che si è staccata dal soffitto, al momento l'assessore Umberto Italiani non sa spiegare di che materiale è fatto. Si sa solo che in mancanza di quest'ultimo, ora le squadre si stanno allenando nella tenostruttura del centro turistico e stanno giocando le partite di campionato nel Palasport dello stesso centro. Due impianti che assicura l'assessore Italiani sono perfettamente a norma.